L'estinzione è un rumore di fondo che da sempre accompagna la storia della vita. Il primo scienziato che seppe chiarire questa dinamica fu il barone Georges Cuvier ai primi dell'Ottocento. Ora il Museo delle Scienze di Trento fa chiarezza su questo affascinante e complesso tema con la mostra Estinzioni, Storie di Catastrofi e Altre Opportunità. Un racconto che intrecce i contributi della paleontologia, della biologia, dello studio delle società per rileggere gli effetti devastanti delle crisi economiche ma anche per riflettere sulle occasioni inattese che si aprono proprio nei momenti di maggiore instabilità. In particolare il Museo dà il via a un progetto ambizioso che mette in dialogo le ricerche e le riflessioni sulla sesta estinzione di massa, ovvero la crisi ecologica che stiamo vivendo con le dinamiche che hanno caratterizzato le ultime 5 grandi estinzioni paleontologiche avvenute negli ultimi 500 milioni di anni. Il repertorio di oggetti esposti, tutti originali e affiancati da moderne installazioni multimediali permetterà di conoscere il destino delle specie più carismatiche ormai scomparse e di addentrarsi tra le pieghe di vicende meno note ma altrettanto illuminanti. La mostra si divide in 4 sezioni e l'ultima è dedicata alle intricate vicende evolutive della famiglia umana un'occasione per riflettere e guardare al nostro futuro dal 16 luglio 2016 al 26 giugno 2017.